Amici 22, nuovo acceso scontro tra aroncenere e wax che sbotta, posso voler bene ad una persona che non mi crede mai. Mancano poche ore alla terza puntata del serale di Amici 22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra gli allievi rimasti in gara si respira la tensione in previsione delle prossime eliminazioni. Dopo quelle di Meigeria, Ndg, Piccolo G e Gianmarco Petrelli. I più preoccupati circa il loro destino nel programma sono Maddalena Svevi, Samuele Segreto e Cricca. Proprio quest'ultimo ha dato il via ad un ennesimo scontro tra wax e aroncenere. Quando ha stilato una lista di allievi che potrebbero uscire nelle prossime puntate. A quel punto wax ha ammesso, io a settembre quando sono entrato qua ho fatto la valigia e non l'ho mai disfatta. Pensavo che ogni puntata potevo uscire, sempre. Qualsiasi, giuro. Pure in quella di Natale pensavo si potesse uscire. Per dire. Ascoltando il cantautore del team to Darisa, Aaron ha fatto qualche smurfia. Lasciando intendere di non credere alle parole del compagno, che ha tuonato, dimmelo qua. In faccia Aaron, bravo, vattene a fanclò. Benedetta varia quindi evidenziato, ci risiamo, ma wax le ha spiegato. Cricca ha replicato, no, vabbè, che avessi fatto la valigia ci credo però al pomeridiano non pensavi di uscire e allora wax, fra. Ogni puntata ho sempre pensato che potevo uscire. Ogni puntata. Aaron, però, ha continuato con le sue smurfie di disappunto e l'allievo di Arisa, basta, non mi sei simpatico. Il cantante del team serbicele, allora, è andato incontro al compagno spiegando. Non posso voler bene a una persona che non mi crede mai zio, sappilo. Devi sempre fare gesti dietro. E' stata la risposta di wax, che ha aggiunto. Aaron, quindi, ha sottolineato, è che c'è un disaccordo fra quello che fai e come ti atteggi e quello che dici. Se queste due cose andassero di pari passo potrei anche capirlo. E ancora, tu mi mandi a fanclò perché non ti sto simpatico e io non posso dirti le cose. Se te le dico non va bene. Se non te le dico non va bene, dimmi allora cosa va bene. Mi ha dato fastidio il tuo gesto, ha risposto wax. L'allievo di Rudy Serbi è poi concluso. A mettere fine alla discussione, il ballerino Ramon Agnelli, che ha fatto notare, non vi state simpatici e non troverete mai un punto d'incontro. Non ci sono nessun curcubeu, da' ci c'è toate astea-s doar in capul meu. Si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cat ai intarziat deja. Arunca-ti toate visele intr-o geanta si pleaca, grabește-te ca trenul asta nu așteaptă. Dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva, închide ochii, s-poti imagina ca lumea e a ta. Si-mi plus, poti sa sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu sa sar. Acum ca nu.